Ci troviamo a Palazzo delle Aquile per un nuovo appuntamento con i consiglieri comunali. Oggi intervistiamo il capogruppo di Fratelli d'Italia, Mimmon Russo. Un primo bilancio di questa amministrazione Orlando? Il primo bilancio negativo. L'amministrazione Orlando forse è caduta nella confusione totale. Questo lo dice lungo sulle prime scelte che ha fatto questa amministrazione nel nominare personaggi all'interno delle partecipate e ancora oggi nel nominare i nuovi che stanno arrecando più danno rispetto a quelli vecchi. Mi riferisco a Amia e anche a MG, ora non ultime le notizie che sono comparse sulla stampa, sui pali che cominciano a cadere. Ma la città è al buio. Come? La città è piena di rifiuti. Abbiamo assistito a cose orrende durante le feste natalizie, in occasione del fatto che ci sono stato un ritardo nei pagamenti della 13 mesi di mensilità e del pagamento del mese di dicembre. In quell'occasione è venuto fuori tutto il malessere di un'azienda che già è nelle condizioni di non poter più rispettare il contratto di servizio per quanto riguarda la manutenzione a strade, per quanto riguarda lo spazzamento e per quanto come sta divulgendo il servizio per la raccolta differenziata. Ci sono quartieri, come faccio un esempio, a Borgo Vecchio, dove hanno iniziato a fare la raccolta differenziata è diventata un'intera discarica, non c'è più un angolo di strada che non è coperta dei rifiuti. Quindi mi invitiamo a rimettere di nuovo i vecchi cassoni affinché le persone sappiano ammeno dove metterlo però la mettono dovunque, la conferiscono dove gli capita. Quindi l'errore della gestione dei rifiuti in questa città lanciata a persone che veramente non sono all'altezza della situazione e ricordo che i funzionari che oggi c'erano pure quando c'era Amia, non sono mai cambiati. Questi mezzi RAP sono fermi ma l'assicurazione viene comunque pagata. Come avviene questo pagamento? Chi è che paga? RAP paga regolarmente tutte le assicurazioni anche per i mezzi che vengono usati per avere pezzi di ricambio e oggi sono 250 mezzi che non funzionano, sono messi a deposito viene pagata l'assicurazione, è normale e quindi è uno spreco di denaro pubblico. Non sono più in condizione di fare una manutenzione, è diventata più una società tappa buchi e non una società di manutenzione strade in quanto gli operatori della manutenzione strade, e tantissimi, sono stati spostati per la raccolta differenziata non sanno più che cosa fare. Non possiamo mantenere la società tappa buchi, dobbiamo dare l'incarico a una società per fare la manutenzione strade. Una città che potremmo dire che cade a pezzi, anche la situazione, oltre alla situazione rifiuti che rimane emergenziale, c'è anche la situazione illuminazione delle strade che viene meno. vengono rimossi pali della luce, anche per la sostituzione semplice di una lampadina, però siccome non sono più idonei, vengono rimossi ma non vengono sostituiti, non vengono rimpiazzati, quindi le strade rimangono al buio, nella migliore delle ipotesi. In altre circostanze la cronaca ci racconta che i pali cadono, ma di chi è la responsabilità? La responsabilità è diretta dall'azienda, perché non ci può essere altrimenti nessuna responsabilità. Se io ho un contratto di servizio, devo rispondere dei pali della luce se la loro illuminazione è sulla loro fruttura. E quindi nei casi in cui viene trovato un palo che è a Porta della Ruggena, deve essere eliminato, ma deve essere sostituito. Invece a Palermo sta accadendo che non solo nelle strade in cui è accaduto quel palo che è in via 12 gennaio, ma anche in altri quartieri i pali vengono rimossi perché non si è più nelle condizioni di poter fare la manutenzione. Quindi i sistemi innovativi che ci sono, che in altre città, nelle città europee, funzionano perfettamente, cioè andare verso un'azienda privata che si mette in condizione di poter avere un impianto decente, non si fa e non si trova soluzione. Quindi penso che abbia perso la visione, questa amministrazione, a partire dall'azienda, per passare ai vari assessori, abbia perso la visione, non ha più la stessa visione che avevo qualche anno fa. Cosa l'ha indotta a passare all'opposizione? Per governare una città bisogna avere una visione di quello dove vuoi andare. Che cosa immagini la città? Certo, la ZTL o il tram sono scelte, sono scelte, sono scelte il metano piuttosto che la benzina. Ma se una città ha scelto di andare in un certo modo, poi non può andare indietro. Mi sono illuso per un certo momento che fosse più saggio il comportamento del sindaco Orlando, ma ha un vizietto, e gliel'ho sempre detto, schiaccialo la sinistra, e come sono le ultime decisioni dell'amministrazione, lascia qualche colpo nel difendere, per carità, avendo anche ragione, gli estracomunitari e non si preoccupa dei palermetani. Il sindaco è dimenticato coloro che hanno occupato una casa e non possono avere il diritto primario che è l'acqua. Mentre oggi è il Campo Nomadi, ogni giorno, il famoso Campo Nomadi che doveva essere smantellato, è ancora lì. Forse sono uscite un paio di famiglie, ma regolarmente l'acqua arriva con le autobotti. A presto! A presto! A presto!